numero 7 questa pratica vela ombreggiante è in tessuto di poliestere impermeabile protegge dai dannosi raggi solari ed è resistente alla polvere e al vento le dimensioni sono tre metri per tre ma è possibile trovarla anche in altre misure nella confezione oltre alla vela troverai tre anelli in acciaio inossidabile una custodia e tre corde per l'ancoraggio ottimo prodotto per qualità prezzo in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 6 buona la qualità di questa vela parasole di colore grigio protegge dai raggi uv gli anelli rafforzati e resistenti sono in acciaio inox il materiale è impermeabile è perfetta per ogni esterno giardino balcone piscina cortile facile da montare e rimuovere si fissa facilmente a muro ad albero a ringhiere le corde per il montaggio sono in dotazione la dimensione 3 per 4 metri di questa tenda offre un'area di ombra circa 12 metri quadrati potrai trovare questa vela in diversi colori e misure numero 5 la tenda a vela ombreggiante di sol royal è ideale come protezione parasole e anti pioggia per balconi giardini terrazze bar ristoranti mercati e spazi aperti protezione efficace contro i raggi uv tessuto resistente e robusto in polietilene sicuro e a lunga durata design triangolare misura 3 metri per 3 ma puoi trovarla anche in altre misure la trama del tessuto è traspirante e resistente all'umidità e alle muffe gli orli sono rifiniti e le cuciture sono antistrappo facile da lavare e disponibile in diversi colori in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 3 questa vela parasole nel colore bianco crema misura 3 metri per 3 di forma quadrata e immateriale pes resistente agli strappi è impermeabile grazie al suo tessuto a trama fitta resistente al vento e ai raggi uv nella confezione troverai una vela parasole una custodia con zip e corda di fissaggio facile da montare ottimo rapporto qualità prezzo potrai trovarla anche nella forma rettangolare o triangolare se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 2 questa vela di colore beige è perfetta per terrazzo balcone giardino piscina e campeggio crea un'ombra ottimale in polietilene ad alta densità e traspirante resistente a strappi e a muffa le dimensioni sono 3 metri per 4 rettangolare per creare una zona d'ombra di circa 12 metri quadrati la vela antipolvere protegge dalla leggera brezza blocca efficacemente oltre il 90 per cento dei dannosi raggi uv è possibile fissare la vela agli alberi alle ringhiere o alle pareti utilizzando le corde e gli anelli di acciaio inox numero 1 questa vela ombreggiante è in tessuto di polietilene ad alta densità resistente agli strappi e alle intemperie antimuffa la forma concava e il doppio bordo apportano stabilità e resistenza alla tenda a vela in ogni angolo è dotata di un anello in acciaio inossidabile per garantire una maggiore durabilità l'installazione semplice e sicura ideale per giardini cortili terrazze e anche per piscine evita che i raggi uv dannosi passino attraverso la tenda a vela disponibile in diversi colori trovi il link di questo articolo in descrizione